Buongiorno Filippo Diodovic dalla sala operativa di IG, borse europee levemente deboli in avvio di settimana, da segnalare tuttavia l'ottima performance di Avio, produttrice di componenti per l'industria aerospaziale, al suo sbarco a Piazza Affari. Forte attenzione degli addetti e lavori, soprattutto per l'intervento del governatore della Fed Janet Yellen, dopo i deludenti dati sul mondo del lavoro USA, soprattutto in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, sarà interessante capire se la leader della banca centrale del paese a stare strisce cambierà i toni sulle prossime mosse di politica monetaria da parte della Federal Reserve. Intanto aumentano le tensioni geopolitiche. Dopo l'escalation in Siria con l'intervento missilistico statunitense su una base militare del governo di Assad, l'amministrazione Trump ha deciso di spostare una parte della flotta navale in Asia verso la Corea del Nord, proprio per minacciare il governo di Pyongyang e il leader supremo Kim Jong-un a interrompere i propri progetti nucleari. Sui mercati valutari il dollaro ritraccia leggermente, dopo i rialzi delle scorse sedute, il cambio euro-dollaro ha toccato un minimo in prima mattinata a 1,0570 per poi risalire a 1,0590. Le sprospettive grafiche di medio-breve termine rimangono comunque ribassiste. Tanta attenzione quindi per le parole della Yellen in serata. Con questo è proprio tutto, buon trading! Grazie! Grazie!